Siamo di nuovo qui! Allora, no sto scherzando, allora, cosa vi porto oggi? Vi porto il caricatore a 8 posti per USB. Comunque ora, sigla! Bentornati, siamo di nuovo qui. Allora, questo è il caricatore USB che vi dicevo prima, nella stessa giornata perché l'abbiamo provato stamattina, l'ho rimesso nella scatola il meglio possibile. Funziona bene. Adesso qua, vi direte ma non l'hai mica aperto? No, non l'ho aperto perché ho utilizzato un altro cavetto. C'è il manuale, non è un manuale perché il manuale non è un manuale. Ci sono due informazioni in croce e sembra più un biglietto da visita. Quindi lo buttiamo dentro la scatola. Nella scatola l'unica cosa che vi dice è 8 USB. Dietro vi fa vedere circa il computer dove ve lo potete mettere. A noi non ci interessa nulla. Cosa vi posso dire di questo prodotto qui? Questo prodotto qui, per me, è molto comodo. L'ho provato, carica i dispositivi in maniera molto rapida. Cosa c'è di diverso da questo a quegli altri che vi ho presentato? Intanto, lo collegate direttamente alla corrente e il cavo è corto. No, il cavo lo potete cambiare. Loro vi danno questo cavetto che è lungo circa 80 cm. Ma il vantaggio di questo qui, io me lo poggerò sul comodino perché ho bisogno di un prodotto del genere per caricare vari dispositivi. Il vantaggio di questo prodotto rispetto agli altri è che quando inserite praticamente le varie USB, qui a lato vi dice la tensione e il tempo di ricarica. Quindi può essere un prodotto veramente utile. Vi dice anche il voltaggio che sta ricaricando il vostro dispositivo. Se ce n'è uno solo, vi dice proprio quello di quella batteria lì. E se invece ne avete più di uno, vi dice quanto sta caricando i vostri dispositivi insieme. Quindi è un calcolo un pochino approssimativo. Però è un prodotto che funziona bene. È realizzato con cura, anche se in plastica, ma è veramente realizzato in maniera perfetta. C'è la protezione nel display che si toglie una pellicolina. Io l'ho lasciata perché non mi interessa nulla che ci sia o che non ci sia. L'ho provato con tre dispositivi e in tre o quattro ore ha caricato completamente le batterie. Quindi ottimo, veramente ottimo prodotto. For display, non ho idea di cosa ti dice qui perché non ci sono. Dice che c'è la temperatura, che non fa surriscaldare le batterie. Vi dice che se salta la corrente non si brucia i dispositivi. Vi dice, ci sono delle figurine, anche neanche un manuale, però a me veramente non mi interessa assolutamente nulla. Dice che può caricare dai 5V agli 8V al dispositivo. Ogni porta può caricare massimo fino a 5V. Si può colgare alla 220V, ti dice anche dalla 100V alla 240V, però ti dà solo questo. Quindi dovresti prendere degli adattatori e basta. E basta, non vi dice assolutamente niente perché come vi dicevo non c'è il manuale di surriscaldare. Ma non ci interessa nulla. Questo dispositivo è fighissimo, funziona molto bene perché l'ho provato. L'ho provato tre ore, quattro ore, il tempo di caricare tre dispositivi funziona bene. Perché ve lo porto subito? Perché ve lo voglio presentare il prima possibile. Perché se ve lo porto fra dieci giorni che mi arrivano altri pacchi, non ve lo porto più dopo. Questo è il prodotto, cerco di farvi vedere anche come è fatto da vicino. Di qua non c'è nulla e di qua avete il collegamento a corrente. Dietro tutto bianco e sotto ci sono le descrizioni. Spero che anche questo prodotto sia interessante per voi. E anche per oggi è tutto. Buona giornata.